Io credo che ci possono essere ragioni ancora diverse, ancora più grandi, magari che noi non sappiamo, che non conosciamo, che le indagini ci offriranno, spero. Ma sicuramente il dato di partenza è che oggi io e Di Matteo non svolgiamo una funzione di potere nel CSM. Prova ne è il fatto che abbiamo firmato un documento nel quale supportavamo l'ipotesi di un sorteggio temperato per l'elezione dei componenti del CSM, della rotazione degli incarichi semidirettivi e direttivi per togliere proprio potere e discrezione al CSM. Addirittura per abolire l'immunità, le prerogative dei consiglieri e fare in modo che paghino se sbaglino. Chi sta al CSM deve pagare se sbaglia e noi questo abbiamo chiesto. Quindi la nostra posizione è tutt'altro che una posizione di potere e Mal si acconcerebbe con l'idea di una guerra di potere. Noi non vogliamo una guerra di potere perché non vogliamo il potere, non lo vogliamo noi, non vogliamo che ce l'abbia il CSM. Vogliamo toglierlo per restituire autonomia e indipendenza agli strati. Io spero che siano tutti sulla sua linea. Mi fa fatica pensare a vedere che tutti siano sulla linea e si ritrovino nelle parole che ha detto lei. Perché fino adesso abbiamo dato delle letture, abbiamo visto degli scontri anche per le nomine alle procure molto pesanti, scontri di potere sui quali poi ancora stiamo aspettando che si decidano le sorti delle procure più importanti italiane. Che cosa resterà dentro di lei di questa storia? Una bella domanda. Io credo che questa sia una vicenda della quale si potrà sicuramente fare a meno ed è un'esperienza che certamente non avrei vissuto volentieri. Ma io penso che alla fine, alla fine di tutto, dentro una persona che ha una visione anche provvidenziale dell'esistenza, questa vicenda per quanto brutta possa fare del bene, possa fare del bene all'uomo e possa fare anche del bene al magistrato.